musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono solo azione lui è Taro e stiamo qui giocando su Black Ops 2 su zombie città e chi fa peccisioni vincerà mentre quello dei perdenti subirà un peggio che il peggio subirà beh ragazzi non lo sappiamo neanche io sinceramente perchè? perchè non ci siamo più da nobile perchè voi non ce li consigliate neanche la della situazione fate questo no cazzo scrivete fate contentare la persona invece no non lo scrivete grazie ok vai siamo appena cominciati la macchina mortale mio dio ma sono contentissimo la macchina mortale torno torno che culo che culo no 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 è tu no io prendila 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 vabbè regale fammi dai vai u DSR vai cerchi io sono conto uccidilo taruco taruco uccidilo taruco ma che armai tu mi fai schifo mi fai schifo mi fai schifo mi fai schifo facciamo la prima rata ma no non ci vediamo tempo ragazzi è super coglione tu non avrai il futuro non avrai il futuro tu non avrai il futuro tu non avrai il futuro tu vuoi mangiaglio ok vai ragazzi io sono pronti sopra tu non avrai il futuro tu non avrai il futuro tu non avrai il futuro ma non è impossibile questa è la seconda volta mi accontenta anche l'estate c'è l'amore oh mio Dio sono arrivati tutti facciamo mà farla tornuck tornuck mi sono suicidato mi ero uciso con la la copighina tornuck mi fa cadere al phone tornuck 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 me fa cadere sei il cui clorge mi è fai to- Non lo so la volta no Sì, è scusa, l'avresti dato a casa. No, non l'hai fatto, non l'ho fatto, io non ti dava la mano. Io non l'ho dato la mano, perciò. Ma tu hai detto? Dopo che mi hai fatto battere il culo. Non hai messo il capo? E quindi, ma adesso ho due, quindi non hai armi. Non ti hai sentito a dire. Mi fai schifo, non ti hai dato la mano. No, tu ti hai detto, è stato il senso. No, mi fai schifo, non ti perdono. Non l'hai fatto in realtà, non l'hai fatto. No, no, ma mi sei viva. Non l'ho. No, almeno l'ho. Non l'hai detto. Però mi sei, prima avrei avuto avere un'altra arma, non l'hai il culo. Non l'hai il culo. Non l'hai fatto il culo. Ma l'ho. Non l'hai fatto il culo. Cioè, non l'hai fatto. E anche il culo, perciò. Dicò anche il tipe. Ma voi avete visto la macchina da guerra, che non serve a un cazzo. Mio Dio, ma perché mi è uscita la macchina da guerra? Di cosa me ne faccio? Sparo a cazzo di cane. L'EMP! L'EMP a tuttissime! Ma bastate! EMP di meta, che non servono! Che cazzo c'è? Cosa mi servono? Cosa mi servono, l'EMP? Facciamo un po' di fatto, ma mi staranno un pignone. Poi dovete mettere il cioncio. Oddio, c'era uno davanti. E' su me. E' su me. Vabbè. E' su me, dai. Metti deletto. A me non metti. Ah! Cazzo, come si vantate? Cazzo, come si vantate? Cazzo, ci sono due. Guarda, ci sono. Dai. Dai, un toroco! Dai, un toroco! Dai, un toroco! Un colpo passava! Raga, un colpo! Vinceva io! Ci sguattano le decise. Dai, dalla quattro! Sto scherpendo. Vai, raga, 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 raga. Oh, non fai il passato, non è una mia volta. Dai, un attimo. Vorrei dire, per l'altro, 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 questo. Don, questo. Se il mio tempo sta scalendo, corre. Eh, vai, vai, vai! Corri, apri la porta del... Vai, Don, Don! Vai, vai, vai! Vai, Don, sei, corri ora! Ero di città, se lo fai, Don, 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 Don. Ok, vabbè, Daruk! Edi, dai! Daruk, no! Dai, dai! Dio, dio! Non è possibile, Daruk! Sei il faiore! Dai! Daruk, stavi davanti! Stavi davanti! Stavi, ho visto. Avevi due punti da... Ti potevi dire la mia telecamera e potrei sapere che è un punto rosso! Eh, ma non si vede. Daruk, io ti ho... Ti stavi, di Daruk, io ti stavo davanti! No, perché ti passano ovviamente alla vista, cioè, non so io, io ci volevo salvare, quello che vuoi. Daruk, stavi con il mio studio di me e ti sei girato indietro! Ah, bravo, è un po' di girarci, nemmeno vuoi. No, Daruk! Non è possibile, non ci credo! No! Dai, Riccardo, dai! Riccardo, vai! Non ti va a pardonare! Non è possibile! Non è fondamentalmente credibile! Io non ci credo! No, non ci credo! Voleva fare, Riccardo, io, Anna. Che? Non è possibile! Sì, l'ho staggiotto! Oddio, perché sono dr갑ga? No, polizioni. Sì! Ah, manida vera! Cioè, dammi a mano, ora non c'ho la pistola, non posso fare tipi, non fare bastardo! Chi c'ho la pistola, eh? Adrian, dai! Tutto bene? Qualche per esempio le munizioni Che stanno fare i dati si scompaiono? Se lo sai Se non sto facendo, sto facendo così Ma va, lo penso Eh, lo so Mi ha una roba che mi metti nelle mani Mi piace, dai una mano dai Non fai passare dottor, 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 sto facendo, sono fianco dottor, dottor, sto facendo, dottor Ditto, darlo! No, perché dammela? Della mano! Dario! Addio! Non è possibile! Dammela! Cioè in questo caso facevamo dolore, facevamo! Dario! 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 E quindi ci vediamo! non ho mai idea aspetta, facciamo i livelli sono così tanti che per quel tempo ci devi cantare qua fai un favore no, mi torna c'è anche l'epo vai 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 dai 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 mio dio questa è la densa volta via, mai tra io solo in merito fa il risparare il vostro ma è non ci si permanda più che via c'è diciamo che ci sono successi che posso guardare io non so da lei non si può fare da lei non si può fare da lei non si può fare sto cazzo no sto cazzo sto gran cazzo dai 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 sono carino neanche gli fai morire il tuo amico davanti ti stavo davvero come ti giustificare la scuola? non c'è altro non c'è altro no c'è altro ci stavo davanti c'è il zappare che ti segui quando ti sparo torruga non c'è neanche uno torruga non c'è altro vuoi la prima volta vuol dire sempre se qualcuno non ti darà una mano sì è vincio dai tu dai vincio non è l'altro di fare il secondo ma non fare io non mi piace allora mi scatti vai dove si vuole è vero non mentiriamo un momento ma lui non mi piace i bastardi non rianimano la gente è capitato io non ho detto tre volte questo quattro 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 non te l'ho vista la prima volta te l'ho vista la terza volta troppi i zombie la terza volta troppi i zombie la quarta volta troppi zombie no 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 i zombie non c'erano ti stavo tutto ti stavo stesso laddante e tipo perchè Giuliana che cazzo devo prendere? no tu lo sapevi bene sta scritto prendere un quadro qua si legge un cazzo perchè non c'è nemmeno la perdita non si legge non si legge è comunque bene si guardate questa volta si ti ho fatto tutto nel tuo campo di zombie perchè non mi rianimare se mi avessi rianimato mi avessi rianimato mi avessi rianimato perchè mi sarei ripreso qui c'è questo ti ho fatto ucciso nemmeno a me come senti mi torco e non ti fa rispita di un pace dai pensiamo al pizzo dai ehm stoppiamo il video infatti è una cosa che ci pensi a te va bene ragazzi il video è ben finito sto stronzo non mi rianimava grazie eh prego non giocare proprio a me non giocare non giocare mai con lui sempre con lui va bene ciao della beta ciao Luca ciao ragazzi ciao ragazzi il video sarà io ho perso quindi il video sarà mettermi il ghiaccio nelle mutande torco il commento divertiti e guardate come sono grandi gli spazi di ghiaccio oh mio dio Gaccio che ti trova in una bottiglia Non puoi mettermi tu Eh no Non faccio vedere il penne perché non c'è in te Mettiamolo di la vagina Oh cazzo Bastardo Dove è? Cazzo Ci sentissimo C'è un'altra metà No, ne teni altro poco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, no non vale così Ah, ma Dio Cazzo, cazzo Oh ma Dio Ah Ah Vediamo quanto lo hai ai pezzi di caccio che ha cacciato dalle palle Uno E l'altro è solo qui Che lo vogliamo assolutamente toccare E superazione Cazzo Ah beh, guarda Ecco No, Dio C'è una palla come c'è l'hai Ciao Grazie a tutti